Una nuova sede per gli uffici del Giudice di Pace a Capaccio Pestum, in Viale della Repubblica, decende il comando della Polizia Locale. Il taglio del nastro avverrà a martedì 11 settembre alle 17 alla presenza del Sindaco Franco Palumbo, del Giudice di Pace Caterina Anna Pellegrino e di autorità e rappresentanti della classe forense. I lavori di progettazione per l'adeguamento dei nuovi locali sono stati eseguiti dall'Ufficio Manutenzione e realizzati dalla società in house Paistum. La delocalizzazione della sede è stata decisa con delibera di giunta su proposta del Consigliere Comunale con delega ai rapporti con il Giudice di Pace, Domenico Vecchio, che ha seguito l'iter dei lavori. I cittadini e gli operatori dell'informazione sono invitati a partecipare.